Ciao a tutti ragazzi sono qui oggi per presentarvi un nuovo video della modalità transito di Melecoops 2 un glitch che consiste nel rimanere in aria come si fa semplicemente costruendo la jet gun e sparando in un preciso punto dietro il cartello dove si attiva la corrente e l'omino il personaggio resterà sospeso in aria i zombie non vi guarderanno neanche ed è un modo per coprire i compagni dall'altro grazie per aver visto il video e iscrivetevi al canale ciao Ciao a tutti